Senza di me non potete fare nulla. Evangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Non è difficile rendersi conto, anche se apparentemente non sembra così, che gli uomini hanno poco in cui credere. Sono preoccupati, sfiduciati ed hanno paura gli uni degli altri. L'uomo è stanco di udire promesse che non risolvono i suoi problemi a tutti i livelli, personale, familiare, sociale, politico e religioso. L'uomo vive una vita triste, piena di ansie, alla ricerca continua di qualcosa che nemmeno lui conosce e non riesce a trovare per riempire quel vuoto che sente dentro. C'è chi pensa di riempirlo con la ricchezza, con il piacere del sesso, della droga, del gioco o accrescendo il suo sapere. La scelta dell'uno o dell'altra cosa può provvisoriamente distogliere il pensiero dalla vera necessità dell'animo, ma alla fine questa irrompe comunque. Sono troppi quelli che passano su questa terra senza preoccuparsi di conoscere personalmente Dio, l'unico che può riempire il cuore dell'uomo. Per questo Gesù disse, senza di me non potete fare nulla. Accetta Gesù nella tua vita come personale salvatore ed egli colmerà quel vuoto rendendoti una persona veramente felice. Grazie a tutti.